Musica Gentili spettatori, buongiorno, buon avvio di settimana. Oggi è lunedì 31 luglio 2023 e la Chiesa ricorda Sant'Ignazio. Andiamo a vedere le notizie presenti sui quotidiani che oggi sono in uscita. Piemonte-Valle d'Osta della Stampa strage sulle strade nel weekend. Morti un novarese e due cunesi, un 35enne di Momo con l'auto nel canale, forse un malore per una donna di Montadalba, un motociclista di Bastia Mondovia perso la vita in Francia. Riportiamo a casa Gialali, a Novara, l'appello di Amnesty dopo la liberazione di Zacchi. Gialali da liberare, Amnesty e Patrick Zacchi rilanciano la campagna per scarcerare il medico cittadino onorario di Novara e ricercatore all'università. L'appello della moglie. E poi la lotta delle donne iraniane sul balcone di Duccio Galimberti, le resistenze del mondo a Cuneo. Il mercatino di Don Renato Sacco da 40 anni aiuta il mondo. L'iniziativa del parroco di Cesare a questa volta è dedicata alla UILDM. In passato ha sostenuto le popolazioni di Afghanistan, Iraq e Ucraina. Dunque gli incidenti sulle strade nel weekend. Novarese di 35 anni con l'auto nel canale. Federico Massara. I soccorsi nella notte non l'avevano trovato. È stato un runner a mezzogiorno di giovedì a notare il veicolo capovolto nello scolmatore Aro. Abitava a Momo la tragedia mentre rincasava dopo una serata con i colleghi lombardi. Tre vittime in cinque giorni sulle strade. Un'altra settimana nera nella Granda. Un bilancio allarmante. I morti salgono a 15 nel 2023. La cronaca è arrestata a Novara dopo una notte in fuga. Catturato dai carabinieri. Sabato a Oleggio aveva ferito alla gola e al petto un 26enne di Pombia. Un marocchino accusato di tentato omicidio. La lite per questioni di droga. A Viverone movì da violenta. Nelle sere sul lungolago durante la rissa spunta anche una pistola. Per seguita è violenta una sessantenne ai domiciliari. Lo stalker di 84 anni. L'indagine dei carabinieri di Biella. L'addio di Dorzano a Sergio Gusulfino. Sindaco per cinque volte nel basso biellese. Caccia. La Valle d'Aosta allarga le maglie. Scatena le proteste di legambiente. Dopo quattro anni di stop. Via Libera. Gli abbattimenti di fernice bianca e lepre variabile. E lo stop ai cinghiali. Prorogato a giugno. Bella è salvata dall'estinzione. Conne ora la pesca e presidio Slow Food. La presentazione del progetto con referenti e produttori a Borgodale. Dall'Irlanda alle colline per narrare il Monferrato. Su una pagina di Instagram. L'idea di una 23enne di Valenza. E poi il progetto. Wellgranda. L'evoluzione del welfare secondo fondazione CRC. L'idea di una rete per rispondere ai bisogni del territorio. Con il sostegno concreto a servizi, imprese e associazioni. L'iniziativa con Socialfare. Centro per l'innovazione sociale. Cantieri di lavoro. Per sei disoccupati. Si dedicheranno al verde pubblico. Il bando a Vercelli. Lago Maggiore. L'incubo. Siccità. Nonostante gli intensi temporali. La richiesta d'acqua per irrigare i campi tra Piemonte e Lombardia è doppia rispetto alla quantità che entra dai fiumi e con le precipitazioni. Ridotta la portata sui traghetti della linea Intralaveno. A Nizia e Canelli le colline Unesso si scopriranno in bici. Stasera la presentazione a Castagnole e Lanze. Il progetto della regione da 10 milioni di euro. La funicolare ferma a Biella. Servono bus, navetta o il piazzo resterà isolato. L'appello di residenti. E commercianti. Con la giovane stella del violino Leong Vercelli celebra il patrono Sante Eusebio. Domani con la camerata ducale il musicista propone il concerto in Re Maggiore di Cekoschi. Verbania. Settimana all'insegna di scienza, diritti civili e teatro. Il festival Allegro con Brio guarda ai giovani. Domenica il finale sarà dedicato al ricordo di Anna Politoskaya. Il ricordo di Giovanni Goria, l'uomo nuovo del dialogo in politica, ad Asti avrebbe compiuto 80 anni. Ora lo sport. La partita doppia sul campo. L'Alessandria limita il passivo con la Sampdoria. Sugli spalti non mancano le contestazioni del presidente e compare uno striscione pesante contro tutta la dirigenza. È già un Novara che promette ma c'è ancora tanto da fare. Gli azzurri hanno chiuso con un doppio successo per 2-0. Il ciclo iniziale di amichevoli estive, giovedì e domenica. Altri collaudi, prima contro il Fiorenzuola, poi il test di lusso con la Samp. A Druogno col Chisola, la Provercelli, largo ai nuovi, buon debutto di Fiumanò, pesce, spavone e condello. Il Toro, primavera e a Centallo, sfide contro l'Asti e il Perugia. Il Granata di Mister Scurto fino a sabato, il ritiro nel Cuneese. Quattrini e i mondiali da ricordare. Esaltante aver battuto il Sudafrica. Nel rugby, il talonatore novarese è stato tra i protagonisti della spedizione azzurra Under 20. Igoro, l'ultima chance per l'Europa, ma serve vincere la Webza Cup nel volley donne. A settembre in palio un posto in Challenge. Sera Valle, basket, trasloca Serie B interregionale con otto piemontesi, è uscito il calendario. E poi Cuneo, ultimi giorni di vacanza, lunedì raduno al palazzetto per le ragazze di Coach Bellano che attendono i calendari. Ancora sport con Filippo Ganna, Glasgow in forma mondiale, l'incognita lungo Borghini e Balsamo, ciclismo. I piemontesi si avvicinano con differenti sensazioni alla rassegna iridata. E poi ancora Stefano Sottile, oro nell'alto, marchiando Bissa il bronzo nei 400 ostacoli. Due gare di livello, esultano il Valsesiano e la Valdostana, atletica leggera, gli assoluti di Molfetta. Il trail al Monterosa parla americano a Macugnaga, Allen, Caitlin, prima donna. Poi il dominio di Max Vacchetto nella Pallapugno è l'uomo da battere. Domani riceverà Parussa a Cortemilia, stasera a Cuneo nei play-out Torino-Barroero. Ora andiamo ai nazionali. La stampa, reddito di cittadinanza utile solo a prendere voti. L'intervista al ministro Ciriani, la CGL, minaccia scioperi preventivi. PD e Movimento 5 Stelle dicono stanno con gli evasori contro i fragili. Allarme e sanità, buco da 15 miliardi, inflazione e contratti scaduti piegano il sistema. Salta la riforma della medicina territoriale. Il governo, costretto a correre ai ripari, pensa a una tassa sull'azzardo. Schillaci chiede aiuto al Tesoro. In Niger, assalto all'ambasciata, al grido di Viva Putin, cacciamo i francesi. Nel Corriere della Sera, sul Corriere della Sera lo vediamo. Il golpe e la guerra in Niger, assalto all'ambasciata di Francia. Viva Putin e Parigi, dice, siamo pronti a reagire. Una situazione che appunto porta un altro paese a mobilitarsi e appunto sullo scacchiere internazionale a far sentire la propria voce. Tra l'altro ci sono le dichiarazioni di poco fa del segretario di Stato Blinken. In America, Putin è convinto di poter resistere più di noi. E poi Kiev, che conferma i colloqui di pace in Arabia Saudita. Ancora sul Corriere della Sera, rialzi e tensioni su prezzi e tassi. Rischi sulla ripresa, vola la benzina, tavolo con governo e garante. Scontro sul reddito di cittadinanza. Zaia dice, troppe distorsioni, è giusto intervenire. E poi ancora Sofia, il killer, era nascosto nell'armadio. Lo vediamo nel taglio basso, atteso che la ragazza tornasse a casa. Poi l'ha uccisa. Il giallo sul cellulare sparito dell'assassino. E un altro femminicidio, un'altra giovane ragazza uccisa dal fidanzato. Per quanto riguarda i mondiali di nuoto chiusi in Giappone. Pilato di bronzo, ci sono luci e ombre nel nuoto azzurro. Con la staffetta maschile, che è campione uscente, viene eliminata in batteria. Gli inserti del Corriere della Sera. Partiamo con login dedicato alla tecnologia. L'intervista a Antea, come linea astronauta selezionata dall'ESA. Andare nello spazio significa poter contribuire al benessere dell'umanità. Tra le missioni più importanti c'è l'osservazione della Terra per contrastare il global warming, il riscaldamento globale. L'economia, con l'intervista a Sadia Nadella, di Microsoft, i giganti del web valgono più degli stati e avranno sempre più potere. L'Italia oggi sette società e trust trasparenti. A settembre arriverà l'ultimo provvedimento. Poi gli interessati avranno solo due mesi di tempo per comunicare all'apposito registro i nomi dei titolari effettivi. Il Sole 24 Ore, la lotta alla criminalità, le imprese infiltrate, record a Roma, Milano e Napoli. Nelle regioni più ricche, con maggiore presenza mafiosa, operazioni incontanti per 140 miliardi. E poi ci sono anche gli illeciti nell'arte. Con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, caccia a 1.300.000 opere scomparse. Scuola, cortocircuito, maturità invalsi, risultati migliori nei test di primavera erano al nord. All'esame invece vince il sud. In chiusura il meteo. Tempo poco nuvoloso oggi e domani, con piogge in serata e durante la notte. Temperatura minima oggi di 19 gradi, massima di 29 gradi. Domani ridotta di un grado, sia la minima che la massima. È tutto, vi auguro una buona settimana. Arrivederci. Un po' di tutto, iscriviti al canale.